Cost, dischi ad alta selettività, Piazza delle Cure, Firenze. Studio 45 Air, Piazza dei Soldanieri, in via Porta Rossa, angolo via Tornabuoni. Ancora Alice, piscina a Piazza Indipendenza, via Nazionale, ah, Alice Alice. Ancora Alice, in Borgo Nissana, vicino alla chiesa, ah, Alice Alice. Che guerra ragazzi, la guerra della moda, l'hai vinta ancora una volta per voi. Vengo dall'America, dove ho conquistato le migliori marche, la migliore roba, Marino Gruvi. In meglio, ho sfogliato l'America per voi e ricordate sempre la più grande mostra del mondo, tutte le migliori marche del mondo, Marino Gruvi.